Musica Monica, un fantasma si aggira per l'Europa? In oltre 750 piazze di tutto il mondo, un fantasma si sta girando, noi lo stiamo smascherando, si diremmo a trattato transatlantico per la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti tra noi e gli Stati Uniti è un pacco, non è assolutamente un trattato che parla di commercio, è un trattato che vuole indebolire i nostri diritti a vantaggio dei profitti di poche multinazionali e di poche aziende. Questo è il nostro modo per dire stop al TTIP, rivolgiamo un appello forte a Roma e a Bruxelles perché questa nostra voce venga ascoltata. Musica Musica